Ecco, il gruppo di studio dell'Infovax nell'incontro del 12 dicembre affronterà sia le questioni vaccinali con delle novità enormi, sia qualche altro aspetto delle strategie anti-Covid anche qui con novità e precisazioni. Per quanto riguarda l'intervento degli avvocati che ci assistono, lascio la parola all'avvocato Melograni. Buonasera a tutti, sono l'avvocato Melograni del foro di Fermo nelle Marche e sono qui per riferire che questo gruppo di lavoro si è costituito per approfondire dei temi metodi scientifici legati al Covid-19, incluse quindi l'ottimizzazione delle strategie vaccinali con un approccio scientifico basato sulle evidenze. Si promuove un confronto approfondito fra detti e lavori per un dibattito scientifico aperto che accetti anche un effettivo contraddittorio. Fermamente sostengo io insieme anche a tutto il gruppo di colleghi di lavoro che non si accetterà alcuna strumentalizzazione che screditi il medico scientifico utilizzato, né si potranno tollerare degli appellativi quali Novax perché non ci sentiamo di essere definiti così come neppure negazionisti, complottisti o altro che mettono quindi in discussione il decoro, la professionalità, la degnità della professione medica svolte dai componenti di questo gruppo di studio. Sono tutti dei professionisti accreditati di cui assolutamente non potremmo assolutamente autorizzare lo screditamento. Quindi per questo se si dovessero per caso configurare degli illeciti civili o penali senza indugio proteggeremo subito la tutela del gruppo o dei suoi componenti in tutte le sedi giudiziali e non ritenute competenti. Lo dico fermamente in nome mio e di tutti i colleghi che con noi stanno lavorando ed è praticamente quello che sino ad oggi abbiamo fatto a partire dal decreto Lorenzin fino ad arrivare all'obbligo vaccinale per i docenti oggi e per i sanitari da aprile. Io non faccio perdere tempo, vi lascio al proseguo, vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Grazie a te Michela. Grazie, grazie professore. Questa è la consueta dichiarazione, ve la lascio in visione in tutte le occasioni in cui si prende la parola in pubblico e anche adesso che avendo fatto degli interventi in Senato c'è stata una raffica di reazioni anche critiche e di tipo se non insultante è comunque piuttosto pesante. Volevo invitare tutti quelli che interloquiscono con qualcuno dei critici a qualsiasi livello oltre a padroneggiare gli argomenti di contenuto a provare anche a dichiarare i propri eventuali conflitti di interesse e chiedere che l'interlocutore faccia altrettanto. Questa è la mission della Fondazione Allineare Sanità e Salute di cui l'altro ieri sono diventato presidente scambiando il mio ruolo con quello dell'attuale presidente che resta nel Consiglio e la mission è questa per superare il conflitto di interessi con la salute che coinvolge un numero sempre più grande di attori in sanità e ha subito accelerazioni spaventose complice alla pandemia. Avevo promesso degli esempi, allora per fare questa volta un esempio ampio che è una digressione rispetto alle novità pazzesche che vi avevo annunciato ma intanto che si lascia che arrivi qualche altro partecipante facciamo questa digressione in risposta anche a una delle domande che sono state poste nella chat da una stimata collega, una ginecologa che ha detto ma come hai parlato male della vitamina D nella terapia nella profilassi anticovid come mai io la utilizzo con buoni risultati eccetera eccetera. Allora in altri incontri ne avevamo già parlato però riprendiamo e facciamo, cerchiamo di fare un punto in maniera chiara su questa questione. Prima però rapidissimamente la scaletta sulle prove per la vitamina D in terapia anticovid che sono al momento insufficienti e insoddisfacenti. Aggiornamenti sull'associazione tra vaccinazioni, casi positivi, terapie intensive. Continua il monitoraggio della situazione in Israele e Regno Unito su Euromomo. Di nuovo il rilancio dell'appello della commissione medico-scientifica indipendente che ha chiesto un confronto al CTS su cinque punti prioritari. Non ci hanno risposto ma noi questa volta non molliamo e andiamo avanti fino a che il confronto ci sarà. Intanto siamo liberi di parlare in emittenti televisive, scrivere su quotidiani e quant'altro. Morti totali, non solo da Covid, perché si bada i morti totali su Euromomo in Inghilterra e l'analisi del sottogruppo Hart con una sottolineatura del gravissimo bias che si crea scorporando gli eventi che si verificano nei primi 14 giorni dopo l'inoculo. I morti totali in base all'Istat con e senza la Lombardia, e questa è la novità più dirompente, ribadisco una strategia perdente nella comunicazione a livello giuridico continuare a basarsi su appelli alla libertà, libertà di cura, libertà di scelta e rischi di danni individuali. Non perché non siano argomenti nobili, argomenti condivisibili, argomenti che erano stati considerati dalla consulta in precedenza ma sono stati superati dall'ultima sentenza e bisogna farsene una ragione e andare a confrontarsi con quello che è la vera radice dei problemi e della giurisprudenza attuale che viene distorta alla fonte da informazioni non valide. La spinta alla terza dose e la variante Omicron, capire se e quanto è giustificato, ovviamente no, quanto proteggono i vaccini dall'infezione, ultime novità, Rasi invoca ulteriori restrizioni sui tamponi, ma questo non ha, vedremo, alcun fondamento scientifico anzi, e una tabella sulle terapie precoci di ragionevole efficacia sicure e sobrie con dei dosaggi, visto che molti l'hanno chiesto, e delle durate di trattamento in base non alla mia esperienza clinica che non ho nello specifico, io guardo la letteratura, la vaglio criticamente e riporto quello che si trova in letteratura in particolare, in questo caso nei trial randomizzati, che sono citati con un preciso riferimento, quindi è quello che in queste circostanze ha avuto successo e lì mi fermo, dopodiché il clinico valuta questi messaggi, valuta la bibliografia a supporto e prende insieme al paziente che a lui si è affidato le decisioni che ritiene più opportune. Allora, partiamo con l'esempio, l'assalto alla diligenza, vendiamo cara la fiala di vitamina D. Allora, questa è una pillola di buona pratica clinica per medici di parecchi anni fa, che però ha ancora intatta tutta la sua validità. Quando si considera che un basso stato vitaminico D è associato a molte patologie, non solo osse, ma anche altre patologie a maggior mortalità, si è invocata l'ipotesi che sia dovuto alla vitamina D e che ci vogliano delle supplementazioni per raggiungere i livelli che le società professionali, guarda a caso, definiscono ottimali, che sono dei livelli che il 90% della popolazione italiana per stare in Italia non ha e far fiorire un ricco mercato di farmaci, integratori e misurazioni di laboratorio. C'è conferma dalle prove? No signore. Allora, quando si è andati in questa meta-analisi non recente, ma poi confermati in tutti gli studi successivi, meta-analisi di OTA, si è visto che per tutte queste malattie, gli studi osservazionali mostrano effettivamente un beneficio, ma quando si va a vedere i trial randomizzati controllati, con una differenza significativa a favore della vitamina D, zero. E questo vale anche per degli effetti che vengono attribuiti alla vitamina D come miglioramento dell'equilibrio, della camminata, la forza delle gambe, della stretta di mano, eccetera. Allora, questo è per la mortalità, per la verità, vi mostro che c'è un lieve ma significativo beneficio, però è trainato da situazioni prevalentemente nelle case di riposo di persone molto anziane, dove effettivamente c'era non una cosiddetta insufficienza, ma c'era una franca carenza sotto i 12 o sotto i 10 nanogrammi per millilitro. E comunque le supplementazioni che hanno portato questo beneficio sono soprattutto all'interno del trial Hawaii, che traina il beneficio complessivo nei trial che lo hanno dimostrato, e in Hawaii il supplemento era di 400 unità internazionali al giorno, tanto per non andare subito a pensare a dei boli. Cosa dobbiamo pensare quando gli studi osservazionali mostrano associazioni molto forti, ma i trial randomizzati mostrano poco o nulla? Dobbiamo pensare che ci sia questa associazione spiegata da altre possibili plausibili ipotesi. I bassi livelli di idrossi e vitamina D nel sangue non siano la causa, ma siano la conseguenza della malattia. Sarebbero un marker biologico di cattiva salute, di stato infiammatorio, di accumulo e gravità di disordini e vari studi hanno confermato questa ipotesi e quindi non è che somministrando la vitamina D si rimedia a quelle che sono le cause che portano a un suo maggior consumo. Era come quando si vedeva che all'inizio del secolo scorso che c'erano dei rarissimi casi di tumore al polmone che si associavano al dito giallo e non si capiva il perché questo marker misterioso del dito giallo che era ovviamente il consumo di sigarette ma che ancora per 60 anni non era stato attribuito in maniera causale al fumo, il tumore al polmone e quindi portavano i primari a vedere questa rarissima condizione del tumore polmonare col dito giallo. Non è che se uno si mette a strofinare quel dito gli passa il tumore al polmone così con i supplementi di vitamina D. I rischi ci sono quando si usano alte dosi rischi di cadute e di fratture. Si sono visti prima in grandi trial in cui si sono somministrate in dose singola 500.000 o 300.000 unità internazionali all'anno ma poi si sono visti anche in trial che somministravano 100.000 unità al mese 150.000 al trimestre 60.000 al mese 4.000 o 4.800 al giorno la gente cade di più si frattura di più per cadute e altri problemi anche cardiovascolari. Inoltre valori di vitamina D sopra i 40 nanogrammi sono stati associati a maggior rischio di cadute per cui ecco invece con valori bassi gli idrossidi i problemi per la funzione muscolare sono evidenti solo per livelli sotto i 16 nanogrammi per millilitro e per correggerli vanno bene supplementi da 800-1000 unità internazionali al giorno e questi sono risultati efficaci presi nel pasto principale della giornata che favorisce l'assorbimento. Alte dosi mensili non prevengono affatto le malattie cardiovascolari. Si ricorda che una volta tanto le agenzie internazionali sono del tutto concordi nel dire che 20 nanogrammi di idrossidi per millilitro sono assolutamente sufficienti cioè non c'è bisogno di arrivare a superare i 30. Cioè se uno è a 30 se lo tiene senza supplementi, se uno è a 35 pure, se uno è a 20 sta tranquillo, se vuole aumentare l'introito di vitamina D quando c'è il sole esce se ne prende un po', quando mangia introduce anche del pesce grasso nella sua alimentazione. naturalmente molto diverse le posizioni delle società professionali, tutte e otto le italiane, si sente il bisogno che ce ne siano otto che si occupano di osteoporosi e si dedicano a cercare di produrre linee guida e sono concordi nel dire che ci sarebbe deficienza tra i 10 e i 20 nanogrammi e insufficienza quando si è sotto i 30 e parlano di un range ideale sempre di nanogrammi per millilitro e ovviamente sarebbe due volte mezzo tanto se si guardassero le nanomoli litro. Range ideale da 30 a 50. Il risultato è che il soggetto che deve e si trova con 25 invece di stare assolutamente tranquillo si mette a fare altri monitoraggi ossessivi e intanto prende dei supplementi. Per intendersi i supplementi vanno meglio le gocce sia perché sono testate nei trail che hanno avuto successo sia perché come vedete dai prezzi per arrivare a introdurre con gocce se ne prendono 4 al giorno da 250 unità internazionali 1000 unità internazionali al giorno sarebbe meglio non andare oltre per arrivare a introdurre 25.000 unità internazionali con di base si spende 1,35 euro se si usa il generico meglio ancora 1,11 euro se si usa sempre per la stessa dose da 25.000 un flacone da 25.000 unità internazionali vedete la differenza di prezzo di 4 volte quindi non è il caso di andare a ingrassare inutilmente i profitti di case farmaceutiche prendendo i boli anche perché la vitamina D è un business colossale uno dice ma costa poco è vero che costa relativamente poco però è diffusissima è uno degli integratori più assunti farmaci di larghissimo impiego esami di laboratorio ripetuti al punto che ci sono dei paesi gli Stati Uniti, il Giappone che hanno dovuto mettere dei limiti non più di tre determinazioni all'anno sono consentite perché la gente continua a misurarsi ossessivamente spinta da una promozione e tutto il business degli integratori e dei cibi fortificati che è stato denunciato da Mark Bolland e Jan Raid che sono ricercatori neozelandesi quali livelli raccomandare? allora io ho visto tempo fa, ero stato interpellato proprio da una collega che probabilmente è collegata che diceva ma nella mia regione, l'Emilia Romagna si dice che la sufficienza è tra 20 e 100 sopra i 100 possibili tossicità ecco, è vero però dire che la sufficienza è tra 20 e 100 è grottesco è grottesco anche perché la gente vedendo questo range dice ma forse è meglio che mi posizioni al centro che cerchi di arrivare a 60 e quindi si riempie di supplementi e poi cade e si frattura quindi molto meglio in questo caso la nota del live è ispirata anche dal nostro maestri che è Emilio Maestri è nel comitato scientifico della fondazione allineare sanità e salute e ha avuto un ruolo importante nello stabilire il range desiderabile tra 20 e 40 nanogrammi per millilitro finché trial non daranno risposte definitive di tipo diverso questo è quello cui è bene attenersi e per quanto riguarda la vitamina D nel caso della covid attenzione che a Pavia quando hanno fatto una verifica su adulti consecutivamente ricoverati con covid hanno trovato per esempio per dire che c'è contraddizione hanno trovato in un studio osservazionale delle sorprese nel senso che c'era associazione sorprendente con aggravamento nei soggetti che avevano la sufficienza cioè che erano sopra i 30 di nanogrammi per millilitro mentre quelli che erano in deficienza andavano meglio poi voi mi direte ma parli sempre dei trial adesso ci citi uno studio osservazionale lo cito per far vedere che c'è di tutto anche se la pubblicità promuove solo una cacofonia di studi osservazionali favorevoli alla vitamina D proprio perché c'è un business che la promuove questo nello studio che vi ho citato era la probabilità di morte in relazione ai livelli di idrossi vitamina D e quindi si vede che non è detto che faccia così bene scusate vi dico un'ultima cosa se uno va a vedere la metanalisi che cito spesso per le varie sostanze per la terapia della covid vedrà che per la vitamina D è comparsa prima era non significativo il beneficio sulla mortalità cioè l'evento più indiscutibile nei trial adesso è diventata significativa non molto convincente anche perché il trial migliore va in direzione opposta però è significativo e perché allora io non sono coerente e continuo a dire che non ci sono prove sufficienti ma perché io sono un po' pignole un po' pedante e io li vado a vedere i trial che mettono dentro e li ho aperti e uno è sbagliato e un altro addirittura sbaglia clamorosamente quello che inserisce quindi ti dice che c'è un beneficio significativo e invece non c'è nessuna differenza sbagli a fare i conti allora uno dice ma perché non sei andato a vedere anche per la melatonina piuttosto che per la curcumina se hanno sbagliato a fare i conti allora primo ho provato a vederlo e secondo quando una cosa ha dietro degli interessi clamorosi che non credo sia il caso della curcumina e neanche del cumino nero è bene provare ad andare a guardare un po' più a fondo per capire se è proprio vero quello che viene spacciato perché anche in questa metanalisi fatta complessivamente bene in tempo reale però chi vuole può inserire prima che uno pensi di toglierlo io non ho ancora segnalato questi due errori che ho trovato prima che uno arrivi a toglierlo passa del tempo e quindi se ci sono grossi interessi non è escluso che facciano anche queste operazioni allora questo è invece per quanto riguarda la situazione aggiornata o quasi dal sole 24 ore che i casi positivi stanno risalendo anche se non certamente quanto nello stesso periodo dell'anno scorso però non dimentichiamo come ci ha ben spiegato Luca Orlando che quest'anno c'è la novità che si fanno prima i test antigenici e poi i confermi molecolari e in questo modo non è una metodo che è comparabile anche se è ottimo e poi vedremo che va molto bene però non è comparabile con l'anno scorso dove si facevano solo i molecolari che sono molto più sensibili anzi troppo sensibili e trovano anche dei soggetti dipende dal numero di cicli soglia che applicano di amplificazione anche dei soggetti che in realtà non hanno infezione oltre al fatto che trovano soggetti che ormai emettono solo frammenti di RNA ma hanno già finito la fase infettiva questa invece continua a essere buona la situazione delle malattie delle terapie intensive e la prossima volta grazie a un approfondimento di un nostro partecipante sarà presentata una situazione che per molti risulterà sorprendente della situazione della saturazione delle terapie intensive non solo quest'anno e l'anno scorso ma anche negli anni precedenti per capire che dietro a tutta la pressione che si fa su questo indicatore c'è anche una serie di notevoli forzature questa è sempre la situazione che continua a monitorare caparbiamente di Israele e del Regno Unito allora con Euromomo si vede che Israele non migliora non migliora nonostante le terze dosi ormai date quasi a tutti e anche le quarte che si stanno già ventilando non ha recuperato i picchi di eccessi precedenti di mortalità e per l'efficacia vaccinale che cala fortemente si è affrettata a fare la terza dose a quanti più cittadini possibili e già pensa a una quarta dose per quanto riguarda il Regno Unito anche qui non c'è affatto il recupero dei picchi anche in genti precedenti e questo non è il segno che le cose stanno andando benissimo grazie alla svolta che è stata impressa dalle nuove strategie poi monostrategiche su un unico punto per cui noi abbiamo anche per i dati che vi sto per mostrare presentato come è noto questa richiesta di confronto con il CTS il punto primo che forse è più importante e anche sconvolgente di tutti è l'andamento della mortalità non solo su Euromomo ma in Italia con i dati ISTAT e quello della non prevenzione dell'infezione che ormai è diventata plateale come vedremo ancora dall'aggiornamento dei dati inglesi e poi altre questioni assolutamente nodali compresa la vaccinazione dei bambini quella che se faremo in tempo forse no questa volta ma la prossima volta facciamo una spianata sul discorso dei bambini e dei non vaccinati che non sono particolari serbatoi ma proprio per niente e non sono fucine di varianti contrariamente a quello che continuano senza prove a ripetere semmai con un ragionamento che tutti potete seguire oltre al fatto che le prove sono insufficienti ma il cervello c'è si può arrivare a controbattere che le varianti sono generate dai non vaccinati allora questo è l'IS che dice con la terza dose la prevenzione dal contagio risale quasi al 77% ecco era con la seconda dose era il 90% però qui 77% e dice quindi va molto bene colpo di fortuna queste sono le grandi notizie i Novax hanno rischio di morte 16,6 volte più elevato adesso non voglio impiegare molto tempo ma se c'è qualcuno di voi che vuole dire per alcuni motivi perché questo dato è da prendere con molta cautela mi interrompe ora lo dice se no lo dico io sentiamo accende il video chi lo vuol dire accende l'audio e parla posso accennare una cosa veloce certo sono Valerio in realtà è brutto vedere questa specificità nel rischio di morte cioè non è il rischio di morte dovrebbe essere specificata la di quale patologia stiamo parlando solo covid o per il totale delle patologie o soltanto un settore già questa ambiguità che sentiamo ormai da quasi due anni è inquietante perché dovremmo essere precisi e pretendere appunto da questi dal CTS nazionale di che precisi ogni volta esattamente di cosa stiamo parlando perché se no si crea un allarme ingiustificato e anche insomma pericoloso certo molto bene cioè questo è uno dei motivi per cui la persona che sente queste affermazioni interpreta che muore se non si vaccina 16 volte di più di chi si vaccina ma non è assolutamente vero bisogna andare a vedere la mortalità totale per vedere se c'è una differenza in quale direzione questa si riferisce come ha detto bene Valerio alla mortalità da covid punto primo punto secondo è sicuramente distorta anche se sicuramente muore di più da covid chi non si vaccina per un gran numero di mesi probabilmente non per sempre perché è distorta perché come vedremo quantomeno i decessi e quello che si verifica nelle prime due settimane da 0 a 13 giorni quindi 14 giorni dopo l'inoculo sono spostati tra i non vaccinati ma vi rendete conto della mostruosità che ha ammesso Brusaferro di fronte alla domanda di un senatore ha risposto a voce bassa e occhi bassi che è così che loro li calcolano non vaccinati quelli che sono stati vaccinati ma non hanno passati 14 giorni allora dopo 5 mesi senza booster l'efficacia scende al 39,6 quindi ogni rapporto settimanale che viene pubblicato si abbassa un po' adesso i mesi non sono più 6 ma 5 e addirittura al di sotto del 40% buone notizie dall'ultimo report chi si accontenta ovviamente gode come dice il proverbio la mortalità va sempre specificata e richiesta e pretesa qual è la mortalità totale l'abbiamo già detto e non dovete impadronirvi di questo argomento e non lasciare che nessuno si permetta davanti a voi di dire che si muore 16 volte o anche 10 o anche 5 di più se non ci si vaccina se non si dice qual è la differenza se c'è di mortalità totale e in che direzione va e poi anche perché si contestualizza rispetto a altre cause di morte qui ne sono citate alcune che al momento pesano di più giorno per giorno rispetto a quello che sta facendo la COI ma non destano lo stesso allarme sociale e la stessa sollecitudine da parte di chi regge la sanità pubblica italiana questo la faccio brevissima comunque perché la faccio rivedere perché l'avevo fatta vedere il rapporto alla Food and Drug Administration che è stato presentato da un membro della Food and Drug e dice che nei trial Pfizer ci sono stati al momento della pubblicazione che era meno di sei mesi dopo l'inizio 21 morti con il gruppo vaccinati e 17 nell'identico numericamente e randomizzato gruppo placebo perché lo dico ma perché questo dovete averlo impresso in testa io ho sentito dire nell'audizione che c'erano 15 morti e 14 è vero già uno si aspettava che ce ne fossero di più nel gruppo placebo e non è stato così però non sono 15 e 14 sono 21 e 17 4 di più nel gruppo vaccino e non sapremo mai visto che hanno distrutto il gruppo placebo a sei mesi anzi tra i tre e i sei mesi non sapremo mai cosa succederebbe in un confronto equo l'unico confronto equo che è quello randomizzato a medio termine e a lungo termine e di nuovo si permettono si permettono di dire i ricercatori che le morti non sono attribuibili alla vaccinazione e Pier Giorgio Duca giustamente stigmatizza questa affermazione inaccettabile in un randomizzato e poi stigmatizzo anch'io la rottura del doppio cieco che è una cosa gravissima cioè che non era nel protocollo il protocollo è stato emendato e qualcuno gliel'ha fatta passare queste erano già state presentate la volta scorsa la mortalità totale conta di più nel trial Pfizer 17 contro cioè 21 morti nel gruppo sperimentale 17 con placebo Moderna 16 e 16 in Europa c'è un aumento della mortalità totale nel 21 nelle classi d'età fino ai 74 anni dai 15 ai 74 anni la vaccinazione però è il complesso delle popolazioni europee che mandano dati Euromomo dove ho appurato grazie a una segnalazione di un gruppo preziosissimo di ricercatori indipendenti un ingegnere un informatico medico un altro laureato in discipline scientifiche ho scoperto che Euromomo riceve dall'Italia unica nazione una percentuale bassissima delle proprie morti che non è detto che sia rappresentativa o sia correlata a quello che succede all'insieme delle morti italiane a differenza degli altri paesi che invece le presentano tutte o quasi e quindi da lì è nata la curiosità dell'ingegner di Palmo che ha presentato la volta scorsa di andare a vedere cosa succedeva in Italia e ne vedremo delle belle tra qualche minuto allora questo è i due ricercatori greco e israeliano Seligman e Pantazotas che hanno analizzato i dati di Euromomo con delle conseguenze estremamente estremamente allarmanti vedendo che i rischi superano i benefici sia in età pediatrica sia nei giovani adulti sia nei più anziani purché a basso rischio lavorativo e in tutti coloro che hanno superato l'infezione in Italia vedremo di peggio la vaccinazione degli adulti pare associata a mortalità maggiore nei giovani vaccinati minori non vaccinati minori di 15 anni e questa è una cosa misteriosa che va assolutamente anche questa approfondita fermando le bocce e andando a studiare e a confrontarsi diretticamente nelle regioni italiane e la maggior parte delle regioni nel 2021 la mortalità è stata superiore rispetto al 2020 anche questo è assolutamente non percepito nel dibattito pubblico e i decessi 1539 in Italia invertono una decennale tendenza alla riduzione questo è Euromomo con i grafici aggiornati e si vede che fino a una situazione di lieve svantaggio del 2020 rispetto al 21 nella classe 75 anni 84 e ha un chiaro svantaggio da 85 anni in su nelle altre classi invece c'è l'opposto cioè il 2021 va peggio del 2020 e questo francamente va approfondito questo è il pantazotas che spiega la procedura questo è non è facilissimo da capire ma tanto per far vedere che la mortalità perché loro analizzano Euromomo settimana per settimana in relazione con le campagne vaccinali la mortalità dopo nelle prime due settimane ma anche di più anche cinque dopo l'inoculo c'è una maggior mortalità tra i vaccinati poi fino alla settimana numero 20 diminuisce la mortalità rispetto ai non vaccinati dopo la 20 grosso modo tende ad aumentare ancora e questo va di nuovo approfondito urgentemente questo è Seligman che conclude quello che vi avevo detto la volta scorsa e non lo sto a rileggere questi sono invece i due maggiori esponenti del gruppo Hart inglese Fenton e Neil che dopo aver fatto questa considerazione che i CDC riportano che l'80% e più degli eventi avversi ai vaccini dei ricoveri dei decessi si verificano entro 14 giorni dall'inoculo poi inspiegabilmente non considerano le persone vaccinate fino a 14 giorni dopo la seconda dose e quelli che non arrivano a questa data ci sono molti paesi che li caricano tra i non vaccinati e questo è assolutamente in debito e loro dicono perché si nasconde quello che accade nelle prime due settimane dopo la vaccinazione e loro parlano del fenomeno che si chiama survivorship bias facendo anche l'esempio se si portano una scolaresca in mezzo all'oceano li si butta in acqua poi si fa un giro con lo scafo e si torna dopo un'ora si tirano su quelli che sono rimasti e che sono in buona salute peccato che una parte che non sapeva nuotare non hanno resistito siano annegati se uno considera solo il beneficio di quelli che più robusti più destri sono riusciti a stare a galle a sopravvivere sbaglia qualcosa di grosso doveva considerare come denominatore tutti quelli che sono stati buttati in acqua ergo vaccinati questa è la situazione in Inghilterra rispetto al resto d'Europa e come si vede da questo grafico gli inglesi che hanno vaccinato in maniera concentrata all'inizio anche se non tanto quanto Israele poi vedremo hanno avuto un aggob un picco molto forte per questa le due settimane appunto in cui si verifica il grosso di eventi avversi che invece nella situazione europea sono più spalmate poi le aree sotto la curva potrebbero coincidere ma gli inglesi mostrano più chiaramente quello che è stato l'effetto delle dosi questo è uno studio ormai pubblicato su Lancet che invece in Brasile a Manaus Hitchkins mostra che cosa succede nelle prime due settimane anzi persino un po' di più vedete che per ritornare ai livelli di rischio di covid dei primi del momento in cui è stato fatto l'inoculo devono passare 16 giorni poi scende però il rischio è aumentato dell'85% per le forme sintomatiche di covid e del 116 per l'insieme di tutte le infezioni rispetto ai non vaccinati che fa venire anche dei pensieri rispetto a una possibile influenza di genitori vaccinati che se eccedono in effusioni con i propri figli nelle due settimane dopo l'inoculo potrebbero dato che loro stessi sono più esposti per un'immunodepressione transitoria a varie infezioni tipiche le epidemie di herpes zoster tra i soggetti che si vaccinano potrebbero esporre anche i figli a un aumento di varie infezioni questo è il dato brasiliano come vedete nella analisi non aggiustata c'è un raddoppio buono del health ratio e uno può dire subito ma se si aggiusta cosa si vede si vede che è ancora di più un 2,16 un aumento del 116% dell'health ratio rispetto al non vaccinato nei soggetti analizzando quelle due fatidiche settimane poi scende ok tenete conto che nel breve si dovrebbe verificare l'effetto aderente sano che è ben documentato in soggetti che hanno un alto tasso di mortalità come gli anziani nelle case di riposo la mortalità nei sette giorni dopo la vaccinazione è sistematicamente più bassa tra i vaccinati con altri vaccini e forse c'è una correzione anche con questo vedete che c'è una mortalità un terzo dopo la prima dose e addirittura la metà dopo la seconda ma perché perché se uno non sta bene rimanda la vaccinazione quindi per un effetto che sui grandi numeri si manifesta i soggetti che non stanno bene rimandano e alcuni evidentemente che muoiono piuttosto che non vanno a fare la vaccinazione quando stanno bene fanno sì che nella settimana seguente stanno meglio mediamente rispetto alle settimane precedenti quindi se dopo una vaccinazione non si migliora ma si peggiora non è che uno deve preoccuparsi una volta deve preoccuparsi due volte perché l'effetto più comune dopo vaccinazioni non dannose è addirittura una tendenza al miglioramento non al peggioramento dopo gli inoculi questo ve l'avevo mostrato per chi ha visto al Senato nei primi tre mesi in Italia i decessi totali sono complessivamente diminuiti nel 2021 che è la barra rossa rispetto alla barra verde che è quella del 2020 invece da aprile a settembre perché i dati nostri si erano fermati a settembre aumentano vedete che c'è sempre un differenziale a sfavore del 2021 e questo deve far riflettere che cosa è successo complessivamente in quei mesi questa è la situazione sì questa l'avete già vista i soggetti meno di 49 anni dicono ma perché se fino ad aprile stavamo meglio rispetto al quinquennio 2015 e 15 2019 perché ci si vuole proteggere siamo stati meglio nel 2020 siamo stati meglio nei primi mesi del 2021 poi non va più così nel 2021 quindi questi erano i primi dati che aveva diffuso l'IST allora questo è invece il lavoro pregevolissimo dell'osservatorio open data con quei tre tecnici devo dire che quando sono scesi in campo gli ingegneri c'è stato un salto di qualità sia con il nostro valoroso ingegner di palmo sia con questi che hanno un perito informatico un ingegnere e un laureato in altra disciplina scientifica questo è il loro rapporto numero 10 ve lo faccio scorrere perché dovete guardare solo due cose non tutta questa serie molto complicata che poi analizzerete dalle slide ma guardate solo quello che vedete qui a sinistra dove c'è l'ultima barra che è il 2021 e la precedente che è il 2020 andiamo a vedere cosa succede classe 5 9 anni 2021 è un pochino più alto poco poco 10 14 pure 15 19 pure 20 24 pure comincia a diventare sensibilmente più alto dai 25 ai 29 continua ad eccedere dai 30 34 eccede un pochino 35 39 40 44 ancora 45 49 e qui significativo aumento dai 50 ai 54 e ancora dai 55 ai 59 e ancora dai 60 ai 64 e ancora dai 65 ai 69 meno dai 70 ai 74 e poi di nuovo qui appare un beneficio dai 75 si muore meno nel 2021 rispetto a 2020 così pure 80 84 anni così pure 85 89 90 94 95 99 se poi come vi avevo mostrato la volta scorsa viene la curiosità di andare a vedere tutte le nostre regioni che cos'è successo vedete le slide sono comunque questa slide è già caricata nella presentazione precedente quindi ve la potete studiare vedete dove c'è la colonna 2020 con i numeri rossi vuol dire che il numero rosso supera quello del 2021 quello in cui invece il rosso sta nel 2021 vuol dire che supera il 2020 complessivamente vediamo che in due ripartizioni nel centro nel mezzogiorno c'è un vantaggio del 2020 rispetto al 2021 in termini di mortalità totale fino a ottobre compreso nel 2000 e scusate nel nord c'è invece un vantaggio del 2020 scusate 2021 sul 2020 se però togliamo la Lombardia che è la responsabile di questo grosso slivellamento per l'eccesso di mortalità che in marzo e aprile si è verificato in sei province lombarde in sei province soprattutto nel marzo aprile 2020 vediamo che si torna a invertire cioè senza la Lombardia ci sono nel 2020 qualcosa come 11.000 erotti morti in più 2021 11.000 morti in più rispetto al 2020 e allora stimolati da questo lavoro l'osservatorio OpenDate è andato a fare la rianalisi ne ha mandato un'altra ancora più aggiornata su un altro tema ma non ho fatto in tempo neanche a valutarla tantomeno a inserirla faremo le prossime i prossimi incontri ha fatto comunque meritoriamente questa rianalisi escludendo la Lombardia e vi faccio vedere che escludendo la Lombardia l'insieme delle altre regioni anche per quelle tavole e vi riporto solo quelle dove nella serie precedente c'era un vantaggio per il 2021 nei più anziani c'è invece vedete 70-74 anni un vantaggio ahimè del 2020 sul 2021 se si toglie di mezzo la Lombardia lo stesso per i 75-79 anni lo stesso per gli 80-84 lo stesso per poche differenze ma comunque sempre a vantaggio del 2020 rispetto a 2021 fino ai 100 anni e più dove continua questo svantaggio del 2021 rispetto a 2020 quindi questo è clamoroso cioè con Di Palmo onore alla sua intuizione si era concentrato sull'età più giovani perché meno soggette avariabili perché c'è più è più facile escludere eventualmente delle cause e ipotizzarne delle altre ma onore anche all'osservatorio open data guardando concentrando l'attenzione sulle fasce più anziane si vede non in Euromoma ma per l'Italia che i dati mostrano questa situazione abbastanza angosciante che va approfondita con estrema urgenza anche perché guardando la situazione dei mesi centrali quelli estivi si può dire giornalisticamente come dice Di Palmo che non sono mai morti tanti anziani come nell'estate del 2021 vedete questa spezzata che è particolarmente inquietante ecco vi dico che bisogna abbandonare la difesa che è perdente si perdono le cause si spendono i soldi basata sulla libertà di scelta e sulla danno individuale se ne è accorto Pallante che poi fa delle critiche inappropriate che avranno delle repliche ecco a quello che abbiamo detto in Senato però vi dico che è più importante con i dati che abbiamo tra le mani andare avanti per la nostra strada quindi se qualcuno fa delle critiche appropriate ne prendiamo atto e le incorporiamo e diciamo grazie se uno dice delle stupidaggini tiriamo dritto perché se perdiamo tempo a rispondere a questi non facciamo il lavoro principale che deve essere invece di far discutere urgentissimamente sulle cose che stanno emergendo per cambiare possibilmente le politiche che si stanno adottando e cosa dice questo dottor Pallante dice il Consiglio di Stato in questo caso ha ragione è così l'ultima sentenza ha stabilito la salute a una prevalente dimensione collettiva che supera quella individuale non si è più ai tempi della precedente sentenza della consulta questa nuova viene interpretata dai magistrati come una linea guida la prendono e la applicano non guardano neanche le perizie difensive che cosa scrivono per i medici che cercano di reagire alla sospensione quindi il punto da discutere è quello il dimerito l'argomento sanitario sbagliato che è stato venduto ai giudici della Corte Costituzionale che lo hanno recepito non avendo strumenti critici specifici propri hanno recepito e lo applicano di conseguenza ma su un presupposto che è sbagliato allora questo è invece per quanto riguarda i sanitari il nodo che già consentirebbe di far saltare le leggi sull'obbligo perché sono impostate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e l'obiettivo della legge non si può raggiungere con questi vaccini ma non non si può raggiungere perché riducono un po' e non del tutto la capacità di proteggere ma fanno una cosa spaventosa che adesso vedete nella sequenza delle slide inglesi attenzione prima vi dico che burla il CEO della Pfizer dice che adesso che c'è la Omicron viene fuori che loro hanno già pronto un vaccino per la Omicron e nel giro di tre mesi lo somministrano e che comunque bisogna mettersi nell'ottica di fare ogni anno il richiamo e questo lo dice anche Pregliasco lo dicono anche i nostri esperti televisivi sarà inevitabile un richiamo all'anno la von der Leyen dice pensiamo al vaccino obbligatorio e cosa sappiamo della Omicron questo è sul sol 24 ore ci dice tutti i dati registrano un calo dell'efficacia dei vaccini ma la terza dose dovrebbe dare una buona copertura guardi quel dovrebbe ma forse Giacomo Leopardi non sarebbe capace di trovare un verso così poetico dovrebbe Pfizer in particolare sostiene che tre dosi del vaccino Pfizer neutralizzano la variante Omicron mentre due dosi mostrano titoli ridotti l'esperienza ha confermato che due dosi AstraZeneca non ha mostrato nessuna efficacia Pfizer si riduce riduce l'efficacia al 30% cioè in maniera ben al di sotto di quel 50% che la Food and Drug Administration aveva messo come soglia per approvare questi vaccini però è incoraggiante che dopo il booster cioè dopo la terza dose circa il 75% di protezione per coloro che hanno ricevuto Pfizer il problema è ma serve? e allora andiamo a vedere qualcosa di più di questa Omicron c'è un ingegnere perché non c'è il 2 senza il 3 è un sudafricano che dice guardate che in Sudafrica c'è stato un crollo della gravità aumenta la diffusione ma si riducono in mani di un ordine di grandezza i ricoveri ospedalieri in terapia intensiva e i decessi per cui basterà una settimana in più di monitoraggio per avere la conferma di questo dato quindi manteniamo un cauto ottimismo e aspettiamo ancora qualche settimana per dire l'ultima parola però c'è da essere lieti e tenendo conto che in Sudafrica non è quella fucina che la gente pensa di una situazione che se la cavano bene perché sono altamente vaccinati solo un 25% della popolazione è vaccinato e se se la cavano bene se la cavano bene con questa nuova variante allora tenete conto che in Olanda segnalava in un tweet questo ingegnere nell'ultima settimana si segnala un 41% di morti di mortalità al di sopra della norma per questo periodo dell'anno quindi e solo uno su cinque è dovuto alla Covid o correlato alla Covid ecco quindi c'è qualcosa di molto preoccupante che sta accadendo che va analizzato urgentemente quindi oltretutto dice che questi vaccini non funzionano molto bene contro la variante Omicron quindi questa spinta a far vaccinare che sembra quasi o che devono chiudere con le scorte o che prima che sia dimostrato che bisogna passare ad altro o che bisogna tirar dentro tutta la popolazione non lasciar mostrare che c'è chi non vaccinato se la cava bene lo stesso però c'è questa spinta ormai sconsiderata a vaccinare comunque e chiunque che lascia sbalorditi alla luce di questi dati vedete questo tweet mostra che con la Omicron c'è stato rispetto alla Delta una situazione molto più favorevole per quanto riguarda la malattia grave e allora per la prevenzione dell'infezione abbiamo la dimostrazione che concorre alla prevenzione dell'infezione abbiamo la dimostrazione ormai contraria questi sono i dati che vi avevo già mostrato del Qatar vedete qua che addirittura dal quinto mese scusate dal quinto mese si va sotto la linea di galleggiamento meno 11 meno 20 meno 43 al settimo mese e questo per l'insieme delle infezioni e questo per le infezioni asintomatiche e questo per le sintomatiche gli stessi dati li abbiamo visti in Svezia dove al nono mese si andava sotto la linea dei non vaccinati quindi c'è una tendenza alla inversione della protezione che deve ovviamente far riflettere e ci sono dei sottogruppi importanti che vanno sotto anche con condizioni gravi e lo stesso appare e ho torto collo non lo dichiarano ancora ma appare e viene pubblicato dai dati della sanità pubblica inglese io ve le faccio vedere adesso faccio una rapida carrellata con tutte le settimane mi soffermo solo sulle ultime due che sono quelle nuove ma vedete che questa settimana 36 vi avevo cerchiato le classi di età da 40 a 79 anni dove c'è un eccesso di infezioni tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati con denominatori uguali 100.000 contro 100.000 e classi d'età omogenea di confronto c'è un residuo di effetto Simpson ma questo cade questa obiezione se si guarda il trend perché nella settimana successiva sono 941 le infezioni in eccesso in quella dopo 1021 in quella dopo ancora 1192 poi anche i trentenni cascano sotto questo squilibrio a favore dei vaccinati 1366 infezioni in più nei 100.000 soggetti 1827 nella successiva nella settimana 42 2441 fino alla 43 dove c'è un sorpasso totale cioè se si somma la colonna completa dei vaccinati rispetto ai non vaccinati la colonna completa ha uno svantaggio in questo caso di 580 infezioni in più mettendo dentro anche i bambini e nella settimana dopo 3.284 infezioni in più nei confronti cerchiati e 644 in più mettendo dentro anche i bambini nella successiva 1.062 in più e 3.236 nelle classi cerchiate nella successiva 3.039 cosa succede? Si sfila sia pur di poco la classe degli ultraottantenni cosa succede? Che stanno mettendoci una pezza con la terza dose però quanto dura questa pezza? Effettivamente si riduce un po' l'effetto si mantiene lo sbilanciamento a livello totale ma si riduce un po' in valore assoluto nella successiva settimana si riduce a 950 casi per 100.000 la somma di tutte le colonne nella settimana successiva che è l'ultima disponibile si sfilano anche i 70 79 anni come vedete e l'eccesso di tutta la colonna si mantiene ancora per un'altra settimana ma si riduce a 459 casi ma se c'è l'eccesso e se c'è questo trend che cosa vuol dire che dopo un po' di mesi si deteriora la protezione non è che la protezione va solo a zero ma va diventa negativa diventa negativa domanda e questo ci deve far riflettere vedete in questo caso l'ultima settimana disponibile è questa in realtà sono ridotti a 169 casi lo svantaggio che residua dei vaccinati rispetto ai non vaccinati l'avevamo visto molto più importante nelle settimane dalla 43 alla 48 si è ridotto a 169 casi probabilmente con la terza dose della prossima settimana saranno in pari però ormai non ci sono dubbi con due dosi si infettano più dei non vaccinati dopo un certo numero di mesi e come mai in Italia non lo vediamo ancora chiaramente ma questa è la motivazione vedete in Israele hanno raggiunto il 50% della popolazione vaccinata della popolazione vaccinabile vaccinata addirittura in marzo hanno vaccinato in maniera molto concentrata all'inizio in Inghilterra a metà giugno e in Italia la situazione si è raggiunta nel mese di luglio il 50% è stato raggiunto solo a luglio inoltrato e quindi l'Italia è in ritardo per vedere gli effetti rispetto a Israele e rispetto all'Inghilterra qui Crisanti diceva i nove mesi di Green Pass sono assurdi poi ci ha messo del suo Rasi dicendo che bisogna costringere a portare a un giorno solo la durata del tampone del tampone antigenico perché le 48 ore secondo lui sono troppe perché è un rischio intollerabile perché si è visto ma pensate che si è visto che dopo sei ore c'è gente che ha sviluppato un'infezione ma si può dire una roba del genere ma magari anche dopo cinque minuti però il periodo di garanzia è un'accettazione di un rischio va quantificato e confrontato con quell'altro del vaccinato allora questa è la novità che vi riporta il nostro valoroso Luca Orlando la stima puntuale di sensibilità per il test antigenico quello che si fa adesso che è più rapido è del 75% in un'enorme valutazione di set di dati la sensibilità è stata stratificata per valore di cicli di soglia e si è usando i 25 che i 30 come cut off e ovviamente c'era una relazione inversa tra valore di cicli soglia e sensibilità al test antigenico sembra avere una maggior sensibilità rispetto alla PCR se si tiene come riferimento la coltura virale che è il gold standard sono due metodi che misurano due cose diverse l'antigenico misura se c'è un virus infettivo e la PCR misura se c'è emissione di RNA virale questo può avvenire anche settimane dopo la guarigione in tempi oltre una settimana dall'insorgenza dei sintomi un risultato positivo della PCR è più probabile che indichi che un individuo è stato infettato ma non è più contagioso e non può più diffondere il virus infettivo quindi in soggetti addirittura sintomatici sembra addirittura meglio il test antigenico rispetto alla PCR per identificare chi potrebbe diffondere allora l'Istituto Superiore della Sanità qui c'era ieri ma in realtà era il 27 novembre dice cala il 40% l'abbiamo già vista allora Cislaghi che è un grandissimo che è un grandissimo epidemiologo italiano gli ho parlato ieri e dice ma no cioè non sapeva chi l'avesse detto mi ha detto che qualcuno lo dice ma è da ignoranti dire che il test antigenico protegge meno rispetto alla vaccinazione sono uguali e te lo dimostro con un calcolo semplicissimo se la sensibilità del test antigenico come dice Crisanti dice lui è il 70% se il vaccinato è all'inizio 90% va a finire al 50% a sei mesi fa una media e ancora al 70% quindi sono assolutamente pari come protezione dice lui in realtà abbiamo visto che la sensibilità al test antigenico e la probabilità di non diventare infetto se il test è negativo può essere lì ho mostrato un calcolo poi del rino che è presente e che è niente di meno che il responsabile il responsabile delle pubblicazioni della fondazione allineare sanità e salute e che è un grande epidemiologo anche lui come Cislaghi mi dirà se ho sbagliato qualcosa e lo correggeremo nel caso nelle slide che depositerò invece la protezione del vaccinato la possibilità di trasmettere è meno del 70% mentre il 73% di media quella nelle 48 ore del tamponato con tampone antigenico a essere molto generosi quindi portando a 40% quello che succede a sei mesi diventa del 65% applicando il calcolo di Cislaghi in realtà non è che a sei mesi si ferma lì a 40% continua a scendere molto verosimilmente se guardiamo cosa è successo in Svezia quindi dire 65% e dargliela già buona quindi il tampone antigenico ogni due giorni dà garanzie maggiori che che ne dica il professor Rasi dà garanzie maggiori mediamente rispetto alla vaccinazione a maggior ragione se il Green Pass viene rilasciato per nove mesi questa è l'ultima slide allora io vorrei evitare che qualcuno mi additasse non perché io dico delle cose che non sono sostenibili ma perché vengono mal interpretate riportate a nome mio dice ma sono i cattivi maestri vedi cosa capisce chi legge queste cose allora le ho messe in chiaro perché non ci siano dubbi e le ho messe tutte insieme che cosa ho messo insieme ho messo insieme le sostanze che hanno una prova secondo me adegualta perché sostenuti da trial randomizzati controllati a favore significativi salvo gli ultimi due quercetine e buddesonide nella metanalisi non arrivano alla significatività statistica però ci sono trial piuttosto convincenti a favore che non hanno studi osservazionali contrari cioè buddesonide ovviamente ce li avrebbe se si usasse in prima giornata ma quello che ha dato benefici è usarlo tendenzialmente quando c'è un'esplosione di infiammazione una infiammazione che non recede e ha mostrato chiari benefici dal settimo giorno in poi le sostanze indicate non comprendono non ne comprendono delle cioè sono adottate se andate a vedere la presentazione sulle terapie precoci di efficacia ragionevole ma anche economiche sicure con plausibilità biologica e con ricercatori senza importanti conflitti di interessi con sponsor commerciali questi erano i criteri che hanno fatto inserire quelle sostanze e uno dice ma non c'è l'esperidina ma tu ci hai fatto addirittura uno studio con bella vita l'hai pubblicato lo citano in tanti ma certo ma non c'è il trial e quindi io voglio essere inattaccabile e che quando mi si cita si citano le cose che dico io ecco dopodiché ciascuno il clinico fa le scelte che vuole è libero di cestinare questa tabella però se la cita o se cita qualcuna di queste sostanze citi quello che io vado dicendo che si è trovato con dei benefici importanti sulla mortalità lo iodopovidone una riduzione dell'88% il cumino nero dell'87% la melatonina quasi dell'80% del 70% la curcumina scusate se è poco ecco poi per completezza ci ho messo anche due sostanze che hanno avuto dei trial a favore non hanno a mia conoscenza niente a sfavore ho messo le dosi ho messo la durata del trattamento il problema è che non ci sono stati morti né con l'indometacina né con gli odaccaragenano in Argentina il trial di Figueroa bello grande pragmatico sui sanitari e quindi non si può dire che hanno ridotto la mortalità però hanno delle buone credenziali anche loro vi ringrazio grazie Alberto davvero molto interessante soprattutto il dato sulla mortalità italiano con l'eliminazione della Lombardia io avrei già delle domande prese dalla chat che ti farei allora una proprio in relazione alla mortalità chiedevano se la diciamo l'aver trascurato delle patologie quindi diciamo un'assenza di cure prestate in tutto questo periodo potrebbe incidere su quell'eccesso di mortalità e eventualmente quanto possa incidere allora la risposta è verosimilmente no non perché non ci sia con le patologie trascurate un eccesso di mortalità ma perché il confronto è 2021 contro 2020 allora nel 2020 c'era lo stesso problema al cubo perché la gente vedeva nei primi mesi che andavano tutti in ospedale e morivano aveva paura ad andare in ospedale non si sapeva come i medici si potevano proteggere e potevano proteggere gli europazienti adesso la paura a torto a ragione è molto diminuita perché tutti hanno le mascherine quando vanno in ospedale i medici sono tutti vaccinati gli infermieri pure quindi è vero c'è ancora un ritegno ad andare però minore rispetto a quello del 2020 non c'è è difficile sostenere il contrario ecco quindi già solo questo argomento oltre ad altri che non sto per appesantire a citare qua dovrebbe togliere di mezzo questo direttore è facile ma non parlare ok scusa finisci ho finito ok grazie allora un'altra domanda invece relativamente ai guariti che hanno ricevuto comunque una dose vaccinale questi come sono considerati abbiamo visto che i vaccinati prima dose li mettono tra i non vaccinati invece i guariti con vaccinazione sono un triplo scandalo un triplo scandalo il primo scandalo è perché il guarito dovrebbe essere lasciato stare alla luce delle prove non ho fatto in tempo l'ho già fatta lunga avevo preparato altre live ve le faccio vedere la prossima volta ma ci sono prove ormai schiaccianti che il guarito è protetto molto bene e va lasciato stare il secondo scandalo è che vengono classificati tra i vaccinati quindi milioni di guariti verosimilmente se i guariti formalmente sono più di 5 milioni più di 4 milioni erotti sono i guariti che avranno fatto la vaccinazione in grosso modo un 85% se si considera la proporzione che vale anche per gli altri nella popolazione generale di vaccinati rispetto ai non vaccinati quindi il tirarli dentro tra i vaccinati quando hanno una protezione migliore non tanto grazie al vaccino ma quanto alla aver superato l'infezione alza le quotazioni dei vaccinati indebitamente e migliora le loro prospettive anche rispetto alle condizioni gravi ok un'altra cosa ho fatto un elenco a parte per i guariti assolutamente e non viene fatto ed è un altro scandalo grazie un'altra cosa prima nelle slide quando hai fatto vedere i dati di mortalità facevi riferimento alla Svezia però qualcuno notava poi dalla cartina sembrava essere la Norvegia quindi ti chiedo conferma era Svezia o Norvegia? però la cartina magari ho sbagliato ho sbagliato l'illustrazione quella l'ho messa io ok un'altra domanda ancora si chiede anche se ci si chiede anche se l'idrossiclorochina dobbiamo proprio cestinarla tra le possibili terapie cestinarla è una parola grossa perché io sono convinto che qualcosa faccia però visto che ci sono sostanze non ostracizzate allo spasimo come è stato per l'idrossiclorochina che hanno sicuramente delle prospettive migliori per quanto se ne sa fino ad oggi anche più sicure più economiche economiche anche l'idrossiclorochina ma si viene perseguitati come se si fosse degli stregoni allora io dico abbiamo tante scelte sia di sostanze per cui uno magari viene deriso dai risus abundati nor estul torum e magari uno si mette a ridere perché dice ma gli dai il cumino nero sì gli do il cumino nero perché perché nei trial che sono stati fatti ha dato dei benefici e male verosimilmente non fa e costa poco però gli posso dare anche delle sostanze chimiche io ho citato Budesonides se non si spegne l'infiammazione ma anche da subito per esempio la fluvoxamina fluvoxamina 100 mg due volte al giorno ve l'ho messo in tabella da subito appena viene su la febbre uno ha il sospetto che sia covid 10 giorni può permettersi di prendere per 10 giorni un antidepressivo che è generico piuttosto che non gli odopovidoni uno dice ma gli odopovidoni betadine di endaridi no non ridi cioè è a specifico certo ed è meglio adesso i virologi si accorgono adesso di dire è meglio che fare vaccini meno specifici ma pensa te pensa te cioè quello che era stato mostrato con delle immagini che se è troppo specifico l'arma che noi utilizziamo quando alcuni epitopi cambiano per delle mutazioni che avvengono in continuazione poi l'anticorpo monoclonale non riesce più ad avere la sua azione e a metà strada tra l'anticorpo monoclonale e un vaccino completo c'è il vaccino con mRNA che è molto più specifico di un vaccino completo o di un germe intero e quindi è più soggetto a delle possibili varianti se ci sono delle mutazioni il liodopovidone non ha resistenze note né di batteri né di virus di nessun genere quindi quella goccia da mettere nell'occhio piuttosto che quelle quattro gocce per narice e lo sciacquo sputando in gola e gargarizzando è una pratica assolutamente razionale ok e grazie una conferma il cumino è nigella sativa? sì ok perfetto ci sono ok ci sono anche altre domande ma poi magari si risponderà successivamente perché sono relative a studi sulle varianti eccetera e poi c'era un'osservazione relativamente alla commissione scientifica indipendente non so se voi ne parliamo già adesso sì ok si immaginava ecco che potesse essere più incisiva una commissione questa commissione se fossero presenti anche altre figure come per esempio un virologo un immunologo un epidemiologo ci sarebbe la possibilità di allargare la commissione? la commissione non è chiusa quindi la possibilità c'è e stiamo già esplorando con un immunologo però ci si è dati una regola che i sei membri della commissione valutano gli ingressi perché quando si va a interloquire con il CTS non basta che uno abbia il titolo o abbia anche le pubblicazioni o abbia anche una delle delle skill ma deve essere una persona che è altamente efficace ed efficiente in quel contesto quindi se c'è una persona al quale che poi quando è presente bisogna dare uno spazio si diventa insetti notti in dieci deve parlare pure lui però non è incisivo noi dobbiamo giocare al meglio le nostre carte lì dentro e quindi i sei membri fanno una valutazione e propongono l'inserimento consensualmente se si ritiene che ci sia un valore aggiunto non solo rispetto alla qualifica ma rispetto a un insieme di caratteristiche ok Alberto scusa mi facevano anche notare che nella tabella dove hai riportato i dosaggi per indometacina è stata riportata in modo erroneo l'unità di misura perché 75 150 mg non grammi scusate va bene insomma da correggere ok c'è il professor Missoni che vuole fare una domanda quindi gli lascio la parola guardate ci sono degli interventi che non vorrei che poi fossero sacrificati no allora facciamo intervenire un secondo il professor Missoni e poi andiamo avanti ok ciao Alberto io internazionalizzo perché in Messico continuamente i miei colleghi dicono è una epidemia di non vaccinati e lo fanno sulla base della pratica clinica cioè io non ho motivo di credere che sia falso quello che mi dicono i clinici quando mi dicono che le loro terapie intensive i loro ospedali sono pieni di non vaccinati e allora la domanda la risposta non può essere solamente quella di andare a vedere le statistiche evidentemente volevo sapere cosa risponderesti tu ma risponderei sia a quello che ho detto prima ma anche quello che abbiamo detto molte volte con la sperimentazione dei poli di mare che purtroppo quando la vaccinazione invece di essere mirata dopo dimostrazione che ci sono dei gruppi che ne hanno più beneficio che rischio diventa universale o quasi l'essere circondati da persone che come abbiamo visto emettono e come virus durante nell'arco dell'anno e li emettono come dimostra le sperimentazioni sugli allevamenti dei poli di mare tendenzialmente in maniera più virulenta cioè favoriscono grazie agli anticorpi vaccinali che all'interno hanno e che combattono tutto quello che possono combattere e che alla loro portata nelle mutazioni che si verificano spontaneamente in grande quantità nei virus riescono a demergere proprio quelli che riescono a resistere meglio agli anticorpi vaccinali 15 volte al minuto succede che queste persone li emettono con la espirazione e quindi i non vaccinati che stanno in mezzo fanno la fila la fine dei poli di mare sentinella cioè sono più esposti a delle verosimilmente cioè nei poli è una certezza negli esseri umani è un'ipotesi però è l'unica tra le ipotesi che io conosco che è suffragata da dati sperimentali forti anche se su animali e anche da una plausibilità biologica quindi questa è purtroppo una possibilità cioè che oltre al fatto che quei benefici che vengono vantati del vaccino nei primi mesi sulle malattie gravi ci sono sono probabilmente sovrastimati un po' ma ci sono non considerano la mortalità totale che è la cosa che poi alla gente interessa ma c'è anche il fatto che i non vaccinati in una situazione di vaccinazione quasi universale vengono esposti a un rischio aggiuntivo per responsabilità dei vaccinati magari la prossima volta facciamo proprio un discorso specifico riprendendo anche la faccenda delle varianti che adesso non possiamo perché il tempo ormai è finito che ci sono